La zattera, versione digitale. L'impeto dell'azione stravolge il significato simbolico della composizione. Da un messaggio filosofico si passa ad un ritratto d'avventura. Là dove si leggono le vicende esistenziali, trapelano grazie all'inquadratura ardita, forze dinamiche, immediate e sportive. Ma il significato resta alla base della creazione. Significato di travaglio, di instabilità, di incertezza nel nostro cammino, nel nostro viaggio nel mondo.